il libro le vedute delle origini su leone tredicesimo che abbiamo presentato in film teca vaticana si inserisce in un filone di studi che cerca di comprendere il rapporto tra la chiesa e il cinema o meglio il rapporto che la chiesa ha con la modernità di cui il cinema è uno strumento assolutamente preclaro l'elemento interessante del libro che appunto trova anche una presentazione emblematica in filmoteca e che fa riferimento al cosiddetto caso falso calcina ovvero al fatto che le prime riprese cinematografiche di leone tredicesimo furono accreditate dalla filmoteca vaticana qualche mese prima della sua inaugurazione ufficiale nel 1959 proprio come riprese dei fratelli calcina che erano diciamo i rappresentanti italiani del lumière invece il libro mostra molto significativamente scorgendo appunto nelle carte d'archivio che le prime vedute come venivano chiamate a fine ottocento non erano dei fratelli calcina bensì degli americani dixon e questo cambia molto la storia del cinema no perché appunto fa riferimento a un elemento che non è in continuità con quella che la data di nascita ritenuto ufficiale a parigi del cinematografo come veniva chiamato alla ricerca entra nella questione della paternità delle prime immagini cinematografiche di leone tredicesimo e sbroglia questa questione nel senso che si chiarisce definitivamente che le prime immagini cinematografiche furono girate da william kennedy dixon della biograph nel 1898 e non come fino ad oggi si è divulgato soprattutto in italia ad opera di vittorio calcina nel 1896 su pellicola lumiere questo perché perché negli anni cinquanta uscì un volume ad opera di maria adriana prolo che era la fondatrice del museo del cinema di torino dove veniva messa un'immagine che indicava vittorio calcina nel 1896 gira il primo film di un pontefice da lì si è generato l'equivoco che la filmoteca vaticana ha portato avanti fino ad oggi semplicemente perché nessuno era andato a scovare nelle carte degli archivi vaticani quale fosse la realtà dei fatti un libro veramente straordinario è un giallo sulla storia delle origini del cinema un papa leone tredicesimo si fa riprendere ampiamente mentre sale in carrozza benedice e per molti anni si crede che questo filmato risalga a un italiano mentre invece poi si scopre negli anni che è un filmato che risale ad un americano c'è una contesa ovviamente territoriale patriottica di chi era all'origine e si scopre che era un filmato fatto per essere mandati in america che sedusse gli americani all'origine del cinema gli americani furono seduti da un filmino italiano il papa leone tredicesimo che sale su una carrozza e benedice e fu fatto passare che questa benedizione riguardava coloro gli spettatori tanto che gli spettatori si comportavano come se fossero il cospetto del papa e abbassavano il capo insomma una storia molto molto bella il new york journal che divulgò lo scoop cinematografico asserì che quella benedizione era stata aveva un valore come se fosse stata impartita direttamente dal pontefice e quindi questo invece non era affatto vero perché il papa non aveva detto una cosa di questo tipo di conseguenza fu una notizia fu smentita ma questo non impedì alle immagini cinematografiche di avere una diffusione comunque planetaria. I documenti più interessanti sono la documentazione scritta in cui il maggiordomo del papa Francesco Salesio della Volpe scrive proprio a mano come sono avvenute le prime riprese del pontefice nel 1898 quindi fa una cronaca dettagliata delle prime riprese anche dicendo che quelle immagini non avrebbero potuto girare il mondo se non ci fosse stato il placet specifico del papa. Può essere che ci sia stato un buco all'origine del giallo nel senso che le fonti non furono considerate ma non c'era motivo di mettere in discussione le foto perché noi dobbiamo considerare che oggi l'origine del cinema ci appare una cosa enorme ma quando furono fatti questi studi sembrava una cosa tra le altre sembrava una cosa non dico minore però non di questa importanza per cui chi fosse stato perché a fare quel filmino e perché era stato retrodatato e non perché il filmino è del 1898 invece era stato datato nel 1896 ma poteva apparire come una cosa davvero irrilevante cioè secondo me dietro a quello non c'è un giallo politico è stato semplicemente qualcuno che ha rubato il lavoro di un altro. Però questa ricerca va anche oltre perché cerca di capire quali furono le reazioni alla produzione di queste immagini in quegli anni e si capisce che questo in quegli anni fu percepita come una vera e propria frattura culturale per il valore emozionale che queste immagini seppero scatenare negli spettatori per il fatto che queste immagini riuscirono ad avere una diffusione davvero planetaria. Poi a un certo punto il rapporto con gli americani si rompe perché? Perché erano momenti quelli in cui non esistevano i luoghi di fruizione per il cinema. Queste vedute venivano fatte visionare anche nei luoghi di divertimento anche lascivo e quindi proprio per questo motivo il Vaticano ritenne non opportuna la visione del Papa perché veniva a mancare la sacralità del Pontefice, rupe il rapporto con i Dixon e lì si saurò veramente il rapporto con i fratelli Calcina del Lumière. Questo primo incontro tra la Chiesa e il cinema è anche stato un incontro di forti contrasti. Questo perché le immagini che furono diffuse in quegli anni dalla Biograph crearono un cortocircuito mediatico perché alla Santa Sede non andavano bene i luoghi profani in cui queste immagini venivano veicolate e per la speculazione commerciale che fu creata attorno a queste immagini e quindi la Santa Sede pretese che venissero ritirate in ogni parte in cui venivano diffuse. Dietro questo libro c'è la storia della Chiesa Cattolica che ha saputo interpretare per duemila anni il mondo della comunicazione, vale per tutto la pittura, vale anche questioni controverse come fu nell'ottavo e nel nono secolo la discussione a volte anche sanguinosa sull'iconoclastia e poi le statue e poi l'uso delle foto e poi l'uso del cinema, della radio e della televisione. Non sto a dilungarmi la capacità di comunicare che è una capacità superiore a quella delle altre religioni, superiore, almeno più raffinata, nel senso più predisposta all'apertura verso il nuovo e in grado capace di trovare un ruolo nel nuovo. Emergono veramente nuove figure, la prima figura è quella di Francesco de Federicis, il fotografo e poi cinematografista del Vaticano che appunto girò tutta una serie di film negli ultimi anni della vita del Papa. Emerge il rapporto importante che i fratelli Lumière ebbero direttamente con il Papa. I fratelli Lumière e Louis Lumière forniva le carte della volta celeste della specola vaticana al Papa e gli mandò anche a vedere le sue autocromie, cioè le fotografie a colori, tanto da ricevere anche una medaglia d'oro da parte di Leone XIII. Quindi sono tutti filoni interessanti che vanno sviscerati, che vanno indagati e che aprono a nuove frontiere di ricerca su questi temi.